Un esposto per chiarire le dinamiche dell'incidente che ha visto la morte dell'orso Carrito, avvenuta ieri sulla Statare 17 a Castel di Sangro, lo ha annunciato l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente per fare piena luce sulle cause del decesso dell'orso. Non vogliamo che su questa vicenda ci siano delle ombre o che vengano nascosti dei fatti, scrivono gli attivisti. Per questo nei prossimi giorni presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica dell'Aquila per chiedere indagini approfondite sulla dinamica dell'incidente e sulla tempistica dei soccorsi, così da capire se Carrito poteva essere salvato, sia chiaro nessuna caccia alle streghe, ma una chiara richiesta di chiarezza, perché nessun eventuale particolare sia trascurato affinché eventuali responsabilità possano essere accertate fino in fondo. Intanto sul caso è intervenuto pure Dario Febbo, già direttore del Parco Nazionale, che parla di morte annunciata. Ogni orso confidente diventa un orso problematico e prima o poi fa una brutta fine. Gli orsi sono animali selvatici e debbono vivere nel loro ambiente naturale che noi abbiamo terribilmente circondato, riduciamo sempre più i loro spazi e per cui poi c'è l'elemento dell'orso che gira per paesi e che molte volte fa questa fine purtroppo.